Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare il gioco da tavolo dei Ghostbusters a cura della Cryptozoic e non vorrei dire una cavolata ma mi sembra di sì l'edizione italiana invece a cura della Cosmic Games. Però ripeto, l'ho visto sul loro sito, ne hanno parlato come un loro gioco però non vorrei aver capito fischi per fiaschi ma la traduzione del manuale che c'è dentro, quindi la localizzazione in italiano del gioco dovrebbe essere a cura di Cosmic Games. Colgo l'occasione per ringraziare Ryu Zenka, il mio grandissimo amico, perché mi sta riempiendo di giochi da tavolo e il bello è che ogni volta sfonda sempre le mie passioni. Mi ha regalato Dune, mi ha regalato Robotech, mi ha regalato One Deck Dungeon e ora mi ha regalato anche il gioco dei Ghostbusters che ve l'avevo già mostrato nell'ultima Domenica Ludica, una delle ultime. Quando l'ho visto, ho aperto la scatola e me lo sono visto dentro, nella scatola di Amazon, mi è preso un colpo perché ho detto no, cioè mi ha regalato il gioco da tavolo dei Ghostbusters che volevo da una vita ed è veramente un gioco molto interessante, cooperativo e divertente, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Ghostbusters è un gioco da uno a quattro giocatori, ovviamente un gioco puramente cooperativo e ci vede praticamente, la storia racconta, è dopo il primo film, praticamente ambientato fra il primo e il secondo film degli acchiappa fantasmi, praticamente che un giorno c'è una specie di terremoto in città, la griglia di contenimento non viene danneggiata, quella sapete nel seminterrato dove tengono tutti i fantasmi, però i fantasmi si sono liberati. Quindi non è che è stata a mano messa come da Peck, vi ricordate nel primo Ghostbusters quando fatti raggiù l'energia? No, la griglia è sempre lì, luce verde, ma i fantasmi dentro non ci sono più e i fantasmi scappati, rinvigoriti dalla potenza del malvage Doolnas, che è il boss finale che dovete combattere, stanno un'altra volta infestando tutta la città e in questo gioco noi dovremo muoverci per la mappa, ovviamente prendere i fantasmi, portarli dentro la trappola, trasferirli nella griglia di contenimento mobile che è dentro l'Ecto-1, la macchina e ovviamente poi confrontarci con il malvage Doolnas e chiudere i portali e questo gioco, sì, lo potete giocare anche ad avventura singola, ma al meglio lo dà in modalità campagna, tanto sono quattro mappe, sono quattro episodi e quindi anche particolarmente veloce. Secondo me in due o tre serie, ma nemmeno in due serie, li giocate tutte e quattro. È un gioco, ve l'ho detto, molto veloce, regolamente una cavolata disumana e le miniature che ci sono dentro sono veramente uno spettacolo. Vi faccio vedere un pochino. Intanto, unboxing. Vedete la confezione del gioco, il disegno molto cartone animato, più che il film dei Ghostbusters, sembra il cartone animato, ve lo ricordate? Quello in televisione è veramente bello, mi garba lo stile, poi tutto colorato digitalmente così, è uno spettacolo assurdo. Gioco della Cryptozoic e, ripeto, mi sembra che l'edizione italiana sia a cura della Cosmic Games. Apriamo. Manuale delle Regole. Veramente, ragazzi, io... Ah, all'inizio c'è una specie di storiella, bellissimo, quello della griglia di contenimento che vi ho detto. I disegni sono spettacolari. Mi garbano veramente da morire. Slimer non puoi non mettercelo. C'è, ovviamente, la miniatura e tutto quanto. E le regole, ve l'ho detto, sono. È una cavolata. Questo qui è il gioco forse veramente più facile sulla faccia della Terra. Repilogativo del contenuto che ci fa vedere cosa c'è. Regolamento del gioco in inglese. Tutti quanti i token. Vedete i flussi degli zaini protonici divisi per i vari colori di personaggi. La Ecto-1, che c'è anche la versione fisica, però questa è quella che sta fuori dal campo e ci dovete mettere gli omini. E quell'altra, invece, è quella che poi spostate. Tutti quanti gli slime, per quando i fantasmi vengono addosso e vi inzacrano, più, ovviamente, anche i tile della mappa che vanno composti. Tutte quante le miniature che ci sono dentro, che sono, vedete, i Ghostbusters, gli acchiappa fantasmi. Poi c'è anche il malvagio Idurnas, che vi dicevo, che è la vostra nemese da combattere e colui che muovi tutti questi fantasmi. I fantasmi che mi piacciono a morire, tra l'altro come sono fatti come pedine, perché l'hanno fatti tipo in una plastica trasparente. Bellino, questi non vanno colorati, secondo me, vanno lasciati così. Poi, come puoi non mettercelo? Ecco qui, Slimer. Guardate che figata. C'è anche la miniatura di Slimer, ma aspettate che arriva il bello. Vabbè, poi, ovviamente, gli acchiappa fantasmi. Ray, giallo. Egon, arancione. Winston, viola. E poi c'è Vinkman, qui, rosso. Abbiamo piccolina, ma rende veramente bene, questa va colorata da paura, la miniatura dell'Ecto-One. Schede dei personaggi, più, ovviamente, ci sono anche schede dei mostri e setup delle mappe, schede dei mostri anche di qua e altri vari setup della campagna. Ragazzi, ciao, quanto è bello. E poi tornate in una plastica un po' strana, un po' gommosa. Comunque, l'omino de' Marshmallow, che è questa, è la prossima cosa che deve dipingere mia moglie. Dadi di gioco, che sono i dadi per lo zanno protonico, dadi per i portali, quindi nella fase 20, dadi per vedere dove si muovono i mostri, bustine per conservare tutto quanto, e poi questi segnalini che servono per tenere traccia dei punti esperienza dei personaggi sulle loro carte. Vi faccio vedere un po' come gira un turno. Queste sono le schede dei personaggi, abbiamo scelto Spengler e Peter Winkman, e vedete, lui è di colore arancione e ha 5 flussi di colore arancione, e lui invece è di colore rosso e ha 5 flussi di colore rosso. Poi, ogni personaggio ha un livello qua giù sotto, una barra di punti esperienza che voi ci mettete, ora non ce l'ho messo neanche per farvi vedere, una di queste graffettine qui attaccata per tenere conto dei punti esperienza, che è uguale a Zombicide. Ogni volta, ovviamente, che è passata un altro colore, sbloccate l'abilità nuova. L'abilità alla prima di partenza, i personaggi ce l'hanno già sbloccata. Quindi, direttamente sulla scheda del personaggio non ci sono punti ferita, perché in questo gioco i Ghostbusters non possono morire, possono talpio venire rallentati o insaccherati, smerdati, e ognuno di loro ha un'abilità speciale che è sempre attiva e vi richiede un'azione o magari vi dà anche un'azione in più quando arrivate al livello 3. Comunque, i punti esperienza che andate a prendere, li portate avanti avventura dopo avventura. Quindi, quando arriverete all'avventura 2, non dovete resettarli, ma andate avanti col vostro personaggio ormai che ha acquistato particolare esperienza. Carta della missione, che vedete dalla parte sul retro, c'ha il setup per come setupare tutta quanta la missione, cosa che abbiamo fatto qui. Ovviamente i fantasmi non ce l'ho messi tutti, però comunque vi fa vedere il setup e la zona di partenza. I Ghostbusters arrivano sempre a bordo dell'Ecto 1. E di qua vi dà tutta la descrizione della missione per quello che è l'obiettivo che bisogna fare, una sintesi ovviamente alla storia, e poi tutti gli obiettivi che ci sono da fare sulla missione corrente. Questa è la prima missione del gioco. Punto di partenza, vedete, questa è la miniatura dell'Ecto 1. E quest'altra qui, la sagoma, dovete usarla quando i personaggi, ovviamente per stare a fare vedere che sono a bordo della macchina. Quindi al momento a bordo c'è la guida Ray e tutti gli altri Ghostbusters. Ciascun personaggio ha, prima si muovono tutti i personaggi Ghostbusters e poi alla fase dei fantasmi. I fantasmi non si muovono, almeno che voi non li attiriate o non venga fuori una regola particolare con il loro dado che ora vi vado a spiegare. Comunque ciascun personaggio ha due azioni. E può fare anche due volte la stessa. Sparare due flussi protonici, muoversi due volte. Ciascun personaggio si può muovere di una o due caselle per ogni movimento. Ovviamente quando sono a bordo dell'Ecto 1, ah, si possono muovere sia ortogonalmente che in diagonale, l'Ecto 1 invece è solo avanti a sinistra e a destra. Comunque l'Ecto 1 si muove di 6. Quindi facendo due movimenti a bordo potrebbero fare ad esempio 1, 2, 3, 4, 5, 6, arrivare qua giù, poi 1, 2, 3 e fermarsi qui. Montare e scendere dalla Ecto 1 non costa azioni. Quindi gli AK fantasmi potrebbero uscire. Ora qui ovviamente non li conviene perché possono uscire soltanto dai lati. Come ad esempio se la macchina fosse arrivata qui, loro sarebbero potuti uscire sui vari lati senza consumare nessuna azione. Scendere e salire dall'Ecto 1 non costa azione. Poi i personaggi si muovono, fanno le proprie azioni e poi la fase dei fantasmi. Nella prima missione bisogna andare a chiudere questi portali che vedete c'hanno sopra i simboli, quelli che usava Vinkman. Vi ricordate per testare il quoziente intellettivo e anche un po' medianico dei suoi ospiti in trasmissione? E vedete c'hanno questi simbolini qua giù. Questi simboli sono gli stessi simboli che trovate sui portali meno questo simbolo qua giù che è il simbolo del caos che ogni volta che questo simbolo viene attivato tutti i fantasmi vengano attirati verso gli AK fantasmi più vicini. Questi qua con questo simbolo sono portali chiusi quindi quando andate a chiudere un portale lo dovete girare e nella prima missione per chiudere un portale bisogna mandarci un AK fantasmi e attaccarci due flussi dello zaino protonico. Quindi bisogna prendere due segnalini dello zaino protonico che io siccome prima vi ho fatto vedere le schede ad esempio di Spengler e Vinkman prendiamo Vinkman ad esempio che lo mando qui lui per chiudere questo portale dovrebbe attaccarci sopra due dei suoi flussi protonici e come si fa a colpire qualcosa? In questo gioco per colpire qualcosa si va a tirare un dado da sei e bisogna andare a vedere sulla carta del mostro o del portale della missione. Ad esempio per chiudere il portale per colpire il portale servono due flussi e dobbiamo fare 4 o più tirando il dado invece se vogliamo prendere i fantasmi il fantasma più piccolino tipo questo per essere colpito bisogna tirare un 3 o più quello un pochino più grande questo qui invece bisogna tirare un 4 o più per prendere questo ci vogliono due flussi mentre invece per prendere quello più piccolino di livello più basso di classe 1 ci vuole un flusso soltanto. Ora entra in gioco la linea di visuale ciascun personaggio vede una distanza ortogonale o in diagonale di massimo 3 caselle quindi questo fantasma qui ad esempio è 3 caselle da Ray e anche entro le 3 caselle da Winston però per quanto sia anche entro 3 di distanza da Egon è quanto abbia appunto la visuale bloccata sia da Winston che dall'Ecto-1 queste righe rosse, arancioni, gialle che vedete vi bloccano o la visuale o il movimento o tutte e due. Comunque mettiamo caso che Winston voglia sparare a questo fantasma va a tirare il suo dado da 6 con un risultato, ovviamente spreca un'azione con un risultato di 3 o più lo ha preso perché per questo basta un 3 o più e prendendolo ci deve mettere un flusso del suo colore vedete ci hanno un bochino nel mezzo perché praticamente le dovete attaccare direttamente sulla miniatura. Quindi lo ha preso e quando il fantasma viene colpito o quando viene mancato ha delle regole particolari ad esempio questo quando colpito perché visto che basta un colpo solo dice vedi quando intrappolato questo quando viene intrappolato praticamente esplode e in una casella di aria tutto intorno a sé va a mettere praticamente un token slime va a insaccherare che ora vi dico a cosa vi serve va a insaccherare tutti gli accappafantasmi che sono intorno ma visto che non c'era nessuno è prese e basta ad esempio il mostro quello un pochino più grande vedete che ha a parte le regole speciali del suo e tutto quanto quando viene colpito si muove di una casella verso il Ghostbuster che l'ha attirato che l'ha preso una volta preso dovete levare il fantasma in questo caso qui bastava soltanto uno ve lo mette un flusso soltanto ve lo mettete sulla scheda e gli lasciate attaccato il flusso o i flussi perché per poterlo rimandare nel mondo dei fantasmi che è questo qua giù dovete essere adiacente all'Ecto One usare un'azione lo buttate dentro all'Ecto One quindi vi riprendete il flusso e il fantasma lo spostate nel mondo degli spiriti l'avete rimandato via l'avete bandito e prendete un punto esperienza per ogni fantasma abbattuto o di più ora vi spiego e un punto esperienza per ogni portale chiuso i portali si chiudono con la stessa identica regola ci dovete attaccare i flussi banale dirvi come vi ho spiegato all'inizio ma è normale penso non abbia bisogno di spiegazioni se qui c'è un fantasma e Winston magari questo qui è da uno e qui ce n'è uno un po' più forte da due Winston attacca quello da due lo colpisce successivamente cambia bersaglio e va ad attaccare il fantasma da uno lo colpisce però perde il flusso attaccato a quello da due perché ovviamente puoi prendere con lo zaino protonico ne puoi prendere una alla volta mentre invece per andare a prendere quello da due serviranno due flussi sopra andare a prendere ad esempio il marinaio gigante creature sicuramente più grandi come questa qua che potrebbe venire incontro in altre missioni questo per acciuffarlo ci vorranno dieci flussi quindi dieci flussi attaccati o comunque accanto alla miniatura quindi le regole del movimento su queste qua ricordandosi che i fantasmi non si muovono fino a quando o provate a spararli o succede qualcosa sul dad evento comunque regola vuole che quando il fantasma si muove ad esempio dice si muove di uno verso di voi prendete e fa la strada più breve verso chi gli ha sparato o verso semplicemente il ghostbuster più vicino se invece la scheda del mostro del fantasma vi dovesse dire come questo qui ad esempio si muove di due caselle in direzione casuale voi dovete prendere questo dado rosso e la loro griglia di movimento contando sempre il centro il simbolo degli acchiappafantasmi come la creatura quindi tirate il dado in quel caso ha fatto 8 si muove di 2 verso destra quindi farebbe 1-2 non potendo finire il suo movimento sopra l'acto 1 la passa tutta e si ferma nella casella dopo stessa cosa se il fantasma da qui i fantasmi possono passare anche attraverso le linee chiuse ovviamente se il fantasma si fosse mosso di 1 verso ray avrebbe dovuto continuare il suo movimento in diagonale perché non si poteva fermare nella casella di ray ma andava oltre ogni qualvolta che un fantasma passa sopra un ghostbuster gli dovete mettere sulla scheda un token slimer che vi leva un'azione quindi ricordatevi non ne ha più 2 ma ne ha una la prossima volta che prenderà un altro token slime sarà completamente immobile e non potrà fare niente in quel turno ci si può togliere lo slime un giocatore un ghostbuster accanto a voi vi può togliere lo slime usando un'azione e ve li toglie tutte e due oppure potete togliervelo da solo consumando tutto il vostro turno quindi il vostro turno lo sprecate però vi pulite e ve li levate tutti e due ci sono personaggi tipo lo smerdato per eccellenza vinkman che ogni volta che viene smelmato prende un punto esperienza oppure rei nella sua abilità può togliere agli altri acchiappafantasmi una melma d'addosso o quando arriva al livello 2 se la può togliere addosso a se stesso senza sprecare nemmeno azioni comunque le regole del gioco sono queste qua quindi quando tutti gli acchiappafantasmi hanno fatto il loro movimento hanno finito le loro azioni tocca alla fase 20 per chiudere i portali stessa regola con la differenza che il portale una volta chiuso non c'è bisogno di andare a portare dentro l'acto 1 è chiuso punto e basta poi ogni missione dice una cosa diversa e particolare comunque sempre per la fase dei mostri quindi andate sempre a leggere la carta io vi spiego la prima missione ah altra cosa quando andate a catturare un fantasma si prendono tanti punti esperienza quanti erano flussi attaccati sopra ad esempio su un fantasma piccolino così da uno lo cattura un flusso rosso quindi i punti esperienza vanno a Vinkman perché giustamente l'ha preso lui e si prende un punto esperienza ma se ad esempio ci fosse stato un fantasma da due e il primo flusso visto che è ingittata glielo sparava Vinkman e il secondo flusso visto che è ingittata glielo sparava Ray quindi ce n'aveva sopra uno giallo e uno rosso al momento che andava messo nella griglia di contenimento dell'acto 1 e quindi il fantasma andava ributtato nel suo mondo per ciascun simbolo il proprietario per ciascun flusso del suo colore il proprietario prendeva un punto esperienza quindi in questo caso visto che hanno collaborato un punto esperienza a Vinkman e un punto esperienza a Stance finito tutto questo si arriva nella fase come vi ho detto che va fatta una volta sola mossi tutti quanti i capafantasmi mossi mostre di conseguenza perché alcuni mostri quando li colpite fanno qualcosa quando li mancate fanno qualcosa oppure anche quando li colpite oltre magari a muoversi verso di voi hanno anche da tirare il dado per vedere come si muovono qui quando arrivate nella fase degli eventi tirate questo dado nella prima missione e vedete cosa viene fuori ad esempio ora è uscito un cerchio vuol dire che qui da questo portale sposto il marione gigante qui da questo portale col cerchio dal mondo degli spiriti sponerà un nuovo fantasma e anche qui per vedere dove spona ritirate qui ad esempio tiro ho fatto 7 quindi prendendo il punto centrale come il portale è sponato qui prendete quello del livello più basso e quando non ce ne sono più prendete quelli del livello successivo se invece viene fuori il simbolo ad esempio il quadrato di un portale che è già stato chiuso e anche quelli che chiudete dopo nella prima missione ciascuno di voi perde dalla propria trappola un fantasma del livello più basso che ha quindi magari se Vinkman aveva due fantasmi di livello 1 uno si rilibera si ritira il dado ancora una volta con punto centrale Vinkman e vediamo dove scappa quindi per questo vi dicevo anche la prima missione è forse quella leggermente più noiosa però missione dopo missione questa cosa cambia cosa importante quando invece esce questo simbolo che è il simbolo del caos tutti e ripeto tutti i fantasmi entro 3 perché 3 è la linea di visuale del gioco tutti i fantasmi entro 3 da un qualsiasi ghostbuster quindi qui 1, 2, 3 no loro 2 si lui si lui si lui si e quegli altri no si avvicinano di uno verso il ghostbuster al loro più vicino se ovviamente ci sono due ghostbuster alla stessa distanza si riva sempre con la tabella per vedere casualmente dove si sposta il fantasma linea di visuale di distanza 3 quindi vuol dire che se il fantasma è qui e vinkman perché 1, 2 e 3 lo ha ciuffato con un flusso suo e per qualsiasi ragione o vinkman si sposta o il fantasma si sposta ed è 103 massimo digitata dalla linea di visuale il flusso si stacca quindi il fantasma prende e scappa ragazzi bene o male le regole del gioco sono tutte qui poi ovviamente cosa più importante ogni missione ribadisco la centesima volta c'è il suo setup però ricordatevi sempre che nella maggior parte dei casi quando nel mondo dei fantasmi la partita si perde quando nel mondo dei fantasmi non ci sono più spiriti ovviamente questo è completamente vuoto e magari un portale vi chiede di evocare uno spirito e voi non ce n'avete più quindi non avendo più spiriti qua dentro sono tutti sulla terra e la partita è persa mentre invece quando bandite un fantasma e lo rimandate nel suo mondo lo spostate qui quindi praticamente dovete sempre tenere questa piena e la vostra missione soprattutto le principali è chiudere i portali ci sono delle regole belline dove ad esempio questi fantasmini qui piccoli se si dovessero muovere ed entrare in contatto sulla stessa casella li togliete li rimandate nel mondo degli spiriti e si vanno a fondere e diventano un duo malvagio e praticamente fondendosi diventano una creatura più grande e dovete mettere in campo quella nel punto dove si sono andati a fondere ragazzi bene o male le regole del gioco sono tutte qui come avete visto è un gioco veramente veloce le regole non sono eccezionali perché non è niente di che anzi il primo capitolo che tra l'altro ci ho fatto un gameplay con Manuel e Raleigh che tranno molto che vedete sul canale il primo capitolo è un po' noioso per il fatto che la regola dice che quando arriva ad attirare il dado evento del portale e viene fuori il simbolo di un portale chiuso uno dei fantasmi che avevate nella trappola lo perdete quindi le altre missioni no questo problema non ce l'hanno sono molto più divertenti ma nella prima missione acciuffate 30 fantasmi ne perdete 28 se non siete vicini all'Ecto 1 quindi è un po' è un po' noioso diciamo la prima missione è la più brutta parte male e poi andando avanti invece diventa molto più divertente è un gioco veloce le miniature sono spettacolari a livello di dettagli e tutto quanto poi l'avete visto c'è il Marshmallow Man dentro Stay Puft che è veramente bellissimo l'Ecto 1 tutti i suoi componenti anche i token gli slime lo smelmato e quant'altro l'unica cosa le regole potevano farle un pochino meglio secondo me non sono eccezionali eccezionali cioè funzionano bene per quello che devono fare però è troppo basico come gioco mettiamolo così non c'ha regole particolari sono cose già riviste in zombie sai da altri 3.000 giochi del genere mi è piaciuto molto il discorso che i flussi dello zaino protonico possano essere attaccati solo a un fantasma perché se poi lo stacca e ne attacchi in altro ovviamente lo perdi quello lì piglia e scappa e mi è garbata l'idea anche che devi andare a mettere i fantasmi dentro la griglia di contenimento dell'Ecto 1 devo essere sincero e onestissimo come sempre il manuale italiano è pieno zeppo di errori però occhio nel diciamo nel 30% dei casi quindi poco ci può anche stare sono errori di questi errori qua sono errori grammaticali quindi ci può stare una cavolata vabbè magari ti è scappato la maggior parte delle volte nell'altro 70% dei casi sono errori di battitura quindi si vede ovviamente è stato tradotto al computer penso che più nessuno scriva macchina è stato tradotto al computer e tutto quanto e la revisione non c'è stata comunque hanno dovuto fare un lavoro abbastanza veloce che magari punto a capo non c'è la maiuscola o punto non si va nemmeno a capo e si inizia con la minuscola oppure una parola attaccata a un'altra senza lasciare lo spazio è pieno zeppo di errori ce n'è veramente tantissimi però il regolamento è spiegato bene è tradotto bene ogni tanto c'è qualche errorino però insomma ci può stare se le devo dare un voto complessivo a tutta l'esperienza ludica che offre il gioco e anche alla componentista e tutto quanto e ovviamente ce lo metto anche i lati negativi come regolamento e tutto gli do un 7 meritatissimo è un gioco divertente però secondo me voce di corridoio che ho sentito e spero ovviamente di verificare quanto prima mi hanno detto Coridan Ghostbuster il primo gioco che è uscito è vero aveva delle lacune ma poi hanno fatto un secondo kickstarter di Ghostbuster 2 e è molto più snello come regole ci hanno messo anche delle altre cose ed è molto più carino e accattivante anche perché qui nel gioco ci sono alla fine tre tipi di mostri a parte poi dopo Slimer che è una osa speciale lo chiamo il marino gigante l'omino di marshmallow invece in quell'altro con tutti gli stretch goals ce ne sono anche una decina di fantasmi anche fantasmi addirittura c'era uno stretch goal di un fantasma alto tipo 30 centimetri quindi quello che avete visto s'avvinghi al palazzo nel secondo film di Ghostbuster e poi c'è la testa della statua della libertà che potete muovere sul campo e me l'hanno detto tutti prova al secondo che è molto più completo rispetto al primo comunque è un gioco divertente ed è un gioco che per i fanatici dei Ghostbuster secondo me non deve mancare assolutamente nella libreria quindi gli do un 7 su 10 meritatissimo vi ricordo che se volete acquistare questo e tanti altri giochi da tavolo e giochi di ruolo andate su board game discount che vedete qui in sovimpressione e sempre in tutti i miei video primo link è in descrizione perché trovate i prezzi più competitivi sul mercato e in più i giochi si possono pagare anche in tre rate quindi non tutto insieme andateci a dare un occhio e poi tutti quanti i nostri social a seguire fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate e fidatevi vale veramente tante vi cala veramente nei panni di Ghostbuster ciao ragazzi alla prossima